Sembrava una passione improvvisa, una scappatella come tante, un amore giunto improvvisamente nella vita del 42enne di Petrella Tifernina, già legato sentimentalmente ad una donna nel suo paese d'origine, che lo scorso novembre si sarebbe infatuato di una 56enne. Il parrucchiere musicista avrebbe sequestrato la donna in un monolocale nella zona di Sepino. Probabilmente per non soccombere alla sua debolezza avrebbe deciso di nascondere la donna, il suo oggetto di desiderio, che avrebbe dovuto forse purificare la colpa di essersi innamorata di un uomo già impegnato. Non si comprende ancora la motivazione che abbia spinto il 42enne di Petrella a sequestrare la donna, che in un primo momento, forse per amore o per paura di ulteriori maltrattamenti fisici a cui era già frequentemente soggetta, non ha voluto denunciare l'accaduto, nonostante la preoccupazione manifestata dei suoi familiari. Ma la lunga assenza dalla sua casa avrebbe fatto insospettire i suoi parenti, che un giorno, accompagnati da un prete, hanno deciso di seguire il compagno della donna, trovando il rifugio in cui era nascosta. Impaurita dalla reazione del suo uomo, che avrebbe potuto far male anche alla sua famiglia, la donna avrebbe negato più volte i maltrattamenti subiti. Solo successivamente sarebbe arrivato il crollo. È stato arrestato l'altra sera il 42enne dalla squadra mobile di Campobasso, diretta da Raffaele Iasi. I poliziotti sono intervenuti proprio la sera di una di queste fughe, quando, una volta uscito di casa, l'uomo è stato bloccato e, a seguito di perquisizione, trovato in possasso di una pistola con la quale presumibilmente minacciava la donna. L'uomo portava con sé anche l'unico mazzo di chiavi della casa della donna a disposizione, proprio per evitarle di uscire.